Papa Francesco ha ricevuto nel Palazzo Apostolico il signor Filippo Vujano, vicepresidente della Repubblica di Montenegro. Nel corso dei colloqui è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni bilaterali ulteriormente rafforzate dell'accordo di base che favorisce la collaborazione fra la Chiesa e lo Stato per il bene comune della società. Si è fatto poi cenno ad alcuni temi di comune interesse, soffermandosi sulle principali questioni regionali e sul cammino del Montenegro verso l'integrazione nelle istituzioni europee ed euroatlantiche. Grazie a tutti.